La canzone romantica, ed è infatti molto romantica questa Could It Be, che ci canteranno ora, accompagnati dall'orchestra diretta dal maestro Paul Abela. Georgina e Paul Jordi Minor cantano Could It Be. La canzone, la canzone, la canzone. La canzone, 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 la canzone, la canzone, la canzone, la canzone. La canzone, la canzone, la canzone, la canzone, la canzone. La canzone, la canzone, la canzone, la canzone, la canzone. La canzone, la canzone, la canzone, la canzone, la canzone. La canzone, la canzone, la canzone, la canzone, la canzone, la canzone. Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione